Luis Alberto prova a rientrare in area di rigore, va a terra! Calcio di rigore! Calcio di rigore per la Lazio! Pischiarocchi, parte Immobile, Immobile! Ciro Immobile, non sbaglia e fa Lazio 1, Milan 0! Dopo 38 minuti è in vantaggio la Lazio, ha creato Luis Alberto, il calcio di rigore realizzato da Ciro Immobile, stava crescendo la Lazio di Inzaghi e ha trovato il meritato vantaggio in questa fase dopo che a lungo il possesso è stato del Milan, un possesso non concretizzato, punito dalla Lazio che alla prima vera occasione, quella dal dischetto, ha trovato il gol, Donnarumma aveva intuito la direzione del pallone. Calcio con potenza però Immobile!